Non c'è sulla scarta, ribadisco che la scheda urbanistica non la prevede. Oggi, stamane, sono andato alla Piovene e ho incontrato il preside, il comitato dei genitori, il comitato dei ragazzi e degli studenti, per ribadire quanto già apparso sulla stampa. Quindi, insomma, non devono preoccuparsi? Al momento non c'è nessun tipo di realizzazione di questo tipo? Ad oggi no, comunque prima di tutto deve passare in maggioranza il vaglio della giunta, l'urbanistica ha altre priorità. Il piano del centro storico, come ho ribadito da tempo, il RET, il regolamento di inizio tipo, nonché tutto il ragionamento intorno alla delibera, variante, PAT e PI, consumo solo zero. Ne abbiamo da fare.